Come è il Vigili del Fuoco nazionale? La onorificenza nel valore pieno che questa onorificenza ha. Queste le motivazioni che hanno portato alla scelta della consegna per quest'anno del Melvin Jones la più alta onorificenza che il Club Lion può conferire al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Arezzo da parte del Lions Club Arezzo Nord-Est. Ringraziamo il Lions che ha dedicato un Melvin Jones al Comando Provinciale dei Vigili di Arezzo nella riconoscenza che ci fa molto piacere. Poi questo è stato un anno che ci ha visti impegnati su varie calamità e forse è anche meritato. Ma io credo che i Vigili del Fuoco siano un corpo amato da tutti e come test per vedere che questo è vero penso a quanto i bambini vogliono bene ai Vigili del Fuoco. Quindi sicuramente è un premio che va nella direzione giusta. Una premiazione, quella di quest'anno, ancora più carica di significato visto che rientra nelle celebrazioni dell'anniversario del centenario del Lions internazionale. Abbinando queste due cose le fa risaltare entrambe e credo che anche i Vigili del Fuoco dovranno essere soddisfatti di questa scelta che è caduta su di loro.